Sul tema delle assunzioni e delle nuove graduatorie si sta consumando l'ennesimo scontro fra sindacati e ministero. Gli uni sostengono che la ministra ha fatto e continua a fare soltanto propaganda, mentre da Viale Trastevere rivendicano la bontà delle scelte, sostenendo che tutto sta andando per il meglio e che con l'inizio delle elezioni tutto o quasi tutto funzionerà nel migliore dei modi. La prova del budino, come si usa dire, si avrà solo alla fine di tutti i preparativi ai quali l'amministrazione sta lavorando, ma intanto i segnali che non tutto stia andando per il verso giusto sono davvero numerosi. Le 85.000 assunzioni autorizzate dal MEF nei giorni scorsi si sono dimostrate a conti fatti del tutto improponibili. Non ci sono ancora dati ufficiali definitivi, ma secondo stime sindacali le cattedre effettivamente assegnate non supererebbero le 30.000 unità. D'altronde non si comprende come si potrebbero assumere docenti se le graduatorie ad esaurimento sono ormai vuote in molte province. Ne si possono assumere docenti di sostegno se i corsi di specializzazione non formano insegnanti in numero sufficiente. Una rilevazione non ufficiale di CISL Scuola, per esempio, mette in evidenza il problema e mostra numeri alla mano come le assunzioni reali si attestino sul 29% rispetto ai posti autorizzati, con ampie variazioni da regione a regione, come si può vedere dal grafico. In Piemonte si scende sotto il 20%, mentre in Campania si arriva al 60%. E neppure il meccanismo della cosiddetta col veloce sembra aver consentito un numero congruo di assunzioni. A causa degli stipendi non propriamente principeschi, spostarsi da una regione del sud a una del nord, non è affatto appetibile per la stragrande maggioranza degli insegnanti e proprio per questo l'opportunità offerta da questo nuovo meccanismo è stata utilizzata sai meno di quanto si sperava. Anche le graduatorie provinciali, che secondo le intenzioni della Ministra e del governo avrebbero dovuto consentire una più agevole copertura dei posti vacanti, si stanno rivelando di difficile gestione. I sindacati sostengono che moltissime domande sono piene zeppe di errori, alcuni voluti e altri causati dalla complessità della procedura. Il Ministero però fornisce dati rassicuranti. I docenti che hanno chiesto l'inserimento in graduatoria sono 753.000 per un totale di più di 1.900.000 domande. Era infatti possibile iscriversi per più classi di concorso. Sempre da Viale Trastevere fanno sapere anche che tutte le richieste sono state valutate e hanno portato alla esclusione di quasi 40.000 domande che presentavano anomalie di vario genere. In diversi casi ci sono di mezzo anche dichiarazioni non propriamente veritiere da parte degli aspiranti supplenti. Si parla persino di lauree dichiarate ma di fatto mai conseguite, tanto che alcuni uffici provinciali come ad esempio quello di Lecce hanno annunciato di aver trasmesso le carte alla Procura della Repubblica perché si accertino eventuali ipotesi di reato. La situazione è talmente intricata che i cinque sindacati della scuola hanno già inviato alla Ministra un telegramma con cui chiedono di annullare l'intera procedura consentendo alle scuole di assegnare le supplenze utilizzando le vecchie graduatorie d'istituto. Il senatore Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega, afferma che per uscire dalla difficile situazione la Ministra potrebbe modificare la sua ordinanza di luglio prevedendo la provvisorietà delle graduatorie pubblicate in prima battuta e l'obbligo degli uffici di esaminare i reclami e provvedere sul merito in autotutela. Dal Ministero replicano parlare di caos appare infondato, pretestuoso, fuorviante. L'amministrazione anzi afferma che la situazione è sotto controllo ma per capire se il budino è buono come si sa bisogna sempre assaggiarlo. Fuor di metafora per sapere chi ha ragione fra sindacati e Ministero bisogna attendere qualche settimana e mettere alla prova le nuove graduatorie. Su questo tema noi continueremo a tenervi informati, quindi voi continuate a seguirci sia su questo canale ma anche sul sito del portale www.tecnicadellascuola.it, mandateci i vostri commenti, i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni, noi continueremo a darne conto come sempre. Grazie a tutti.